E allora quindi ha provato questa ricetta nuova? Eh no, ricetta, ricetta l'ho fatta io. Mentre le faccio io faccio le ricette. Perché il bacio di dama ha dentro del pano nocciola e burro, perché le prebevo fatti e con un chilo facevo un mese. Toglievamo la polvere. Toglievamo la polvere, ho messo il piratino fatto di tutti. Poi ho detto io gli ingredienti li ho letti su quella cosa dove le compro. E certamente come mettono loro gli ingredienti, come le metto io, sono diversi. E la prima volta sono stati un po' duri, no, 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 sono andati, a parte anche quello. Poi la seconda volta sono già venuti meglio e poi sono cominciato ad andare fuori. Poi è stato un medico che proprio ce l'ha, eh? Ma non le fate in quantitativi, in quantitativi ce le chiesti. E ho detto ma non so, perché io portavo la roba italiana in Francia e voleva portarli. Infatti ne avevo fatti quintali per lui. Ah, solo per lui? Sì, sì, sì. Veniva a prenderli, ordinavo qui, 30 kg per volta. Accidenti! Finito la notte sognavo palline, eh? Grazie. 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 Grazie a tutti.